Ciao a tutti e bentornati. In questo video vi presentiamo la videomicroscopia, cioè l'interfacciamento di un microscopio, di una telecamera per microscopia e di un monitor di un computer. Vediamo alcuni vantaggi della videomicroscopia. La videomicroscopia permette nello stesso tempo a più persone di osservare quello che è posto sotto l'obiettivo del microscopio, quindi più persone contemporaneamente possono vedere, osservare, descrivere, commentare quello che stanno osservando al microscopio. Un altro vantaggio del videomicroscopio è quello di poter catturare delle immagini, cioè possiamo fare delle fotografie a quello che stiamo osservando e quindi possiamo poi archiviarle, trasmetterle. Abbiamo appunto la possibilità di salvare in formato digitale quello che stiamo osservando al microscopio, quindi possibilità di documentare le nostre osservazioni. Qui stiamo vedendo dei nastri, dei cordoncini visti con un microscopio stereoscopico. Vediamo le singole fibre, vedete questo nastro, e poi lo vediamo riprodotto nel monitor di un computer. Un altro vantaggio dell'utilizzo del videomicroscopio è quello di poter effettuare dei filmati. È possibile registrare dei video. Prima di salutarvi, vi consigliamo anche un manuale, un piccolo libro dedicato alla videomicroscopia. Il videomicroscopio, editore Sandit Libri. Il videomicroscopio è la risposta all'esigenza di vedere ingrandito da parte di più persone nello stesso tempo. Inoltre il vantaggio è di poter fotografare, archiviare, filmare. Questo libro aiuta a realizzare il proprio sistema di osservazione. Grazie per l'attenzione e se volete potete iscrivervi al nostro canale su YouTube. Saluti da Elettronica Didattica. Grazie a tutti.